Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Conserva, trasporti e logistica. City Moda, lo store per tutta la famiglia. Buonasera in questo venerdì sera. Com'è andata questa settimana il co-conduttore Andrea Ravallesa? Buonasera a tutti. Io non mi schiodo dal mio sgabello preferito. La settimana è andata alla grande. I numeri, le visualizzazioni di YouTube parlano chiaro. Ieri boom di ascolti, di visualizzazioni. Mi ripeto, una rivoluzione qui in studio con il tiktoker Michele Monopoli. Che puntatone. Tu sei sempre super bravo. Poi sempre attualità e temi. Noi oggi parleremo nella prima parte con il collega Bepi Castellaneta che è vice caporedattore del Corriere del Mezzogiorno. Per cui lì parleremo dell'attualità, di quello che è successo a livello locale e a livello anche nazionale. È stata una settimana impegnativa sotto più fronti. Sì, molto impegnativa sotto più fronti. Anche in Regione Puglia ci sono stati dei terremoti due giorni fa. Tutta una serie di cose che possono interessarci. A questo punto io darei il nostro saluto a Bepi Castellaneta. Bepi, insomma, come è andata questa settimana a livello politico nella nostra Regione Puglia? È stata una settimana, come dicevi tu, molto turbolenta. C'è stato questo scossone alla Regione che per la verità si trascinava da un po' di tempo con la rivoluzione in quella, possiamo chiamarla tale, dell'ARPAL che di fatto si traduce nella decadenza del direttore generale Massimo Cassano. Questo ha creato ovviamente una serie di conseguenze anche a livello politico. Bisogna stare molto attenti a seguirne gli sviluppi. Assolutamente. Io chiedo ai colleghi di vedere la prima pagina di oggi del Corriere del Mezzogiorno perché, insomma, è importante il Regione, l'inverno è arrivato prima. Sì, noi abbiamo fatto un titolo ironico perché abbiamo trattato due... Anche se fa caldo. Appunto, diciamo, perché trattiamo due questioni in realtà sul giornale di oggi. Cioè una relativa appunto alla rivoluzione dell'ARPAL, l'altra alla crisi energetica. Il caso che ci aveva incuriosito è che alla Regione Puglia abbiamo scoperto che gli impianti di riscaldamento, così come anche l'aria condizionata, sono sempre accesi, quindi per tutto l'anno. Ci hanno spiegato anche che ciò è dovuto proprio al tipo di impianto che prevede che la temperatura sia costante durante tutto l'anno ed è curioso, diciamo, tra virgolette, che mentre appunto si approvava anche l'importante legge che riguarda le compensazioni sulle bollette e sul costo del gas in quello stesso momento ci fosse accesa invece l'aria condizionata così come anche il riscaldamento pare che sia sempre acceso. La novità è che proprio oggi pare sia stata messa a punto invece una modifica dell'impianto e quindi il riscaldamento resterà spento come quello in tutte le case visto che appunto il riscaldamento potrà essere acceso soltanto a fine novembre. È più che doveroso, insomma, visto quello che sta accadendo a livello mondiale ma soprattutto insomma anche col caro bolletto, infatti noi proprio per rimanere in tema Beppi lunedì andremo a trovare un'azienda e faremo la, registreremo la puntata proprio all'aperto e parleremo insomma di questa azienda del problema dell'energia perché hanno avuto una bolletta da 400 mila euro. Sì, assolutamente. È un tema molto importante siccome ci piace andare in giro e parleremo di questa cosa. Risico giustizia del Corriere, insomma anche un articolo fatto da te. Sì, abbiamo approfondito il tema che riguarda appunto la formazione del nuovo governo e in particolare il tema caldo che era quello della giustizia. Quindi abbiamo parlato di risico giustizia proprio perché c'era stata anche quell'uscita di Berlusconi che aveva di fatto dato dei nomi di ministri, quelli che secondo lui, ecco, ministri auspicati più che altro quindi fatto sta comunque che la giustizia era una casella molto importante. Noi abbiamo pubblicato un retroscena da cui viene fuori in pratica che appunto un senatore pugliese Francesco Palosisto, noto avvocato di Bari, potrebbe avere un ruolo importante nel CSM potrebbe essere il nuovo vicepresidente del CSM. E' una possibilità di sicuro è uno dei nomi in campo su quale Bari ci sia convergenza anche da parte dell'opposizione. Turismo, Corriere, insomma sempre un articolo che hai sviluppato tu sul turismo. Sì, per la verità è un commento che avevo fatto nel periodo proprio estivo, il periodo proprio in cui c'è stato il maggior flusso di turisti. Però recentemente sono stati dati i numeri ufficiali appunto da Puglia Promozione, c'è questo boom turistico che riguarda la Puglia e anche Bari in particolare. Ecco, quello che volevamo dire sul giornale è che adesso bisogna capire cosa vuole fare la Puglia da grande, nel senso che il turismo va anche accompagnato, gestito, accompagnato da una serie di servizi che invece in molte realtà della Puglia ancora mancano. Questo è vero. Bari pullula di turisti anche ad ottobre inoltrato, ma oggi su telebari.it abbiamo parlato di questo caos legato agli scioperi aeroportuali. Eh sì, purtroppo sono stati cancellati 73 voli addirittura, è verissimo quello del boom turistico di Bari. Bari è la sorpresa forse migliore della Puglia turistica, si deve a un'opera importante che è stata fatta in città, del resto appunto basta farsi una passeggiata per il centro storico e per le zone, ci si rende conto che mentre prima era il punto dove ci si imbarcava per la Grecia, adesso invece Bari è una distinzione turistica a tutti gli effetti. No, non è vero. E quindi sicuramente di contro c'è invece questo aspetto legato alla protesta dei trasporti, però quella è diciamo una situazione nazionale che è appunto la protesta dei contraddori di volo. Invece mi ha stupito e lasciato un attimo così, violenza, un articolo che hanno fatto i colleghi, violenza sessuale via Whatsapp, è un articolo fatto dalla redazione web, è una cosa scioccante, 13 anni, cioè è una fila di 13 anni, ti fanno tremare queste cose. È scioccante, su questo sono già a buon punto le indagini della procura dei minorenni e viene utilizzato questo strumento anche proprio per, che riguarda appunto internet, cioè vengono diffusi questi video e proprio attraverso la diffusione di questo video poi si è saputo in pratica quello che era successo. Su questo c'è un'inchiesta della procura dei minorenni che è già a buon punto, però è un tema importante, questo proprio della devianza criminalità minorile e anche dell'utilizzo dei telefonini e del web. In un modo smisurato perché non c'è neanche controllo. In un modo criminale. Assolutamente. La cosa dannosa è che mentre per le altre applicazioni tipo Instagram e Facebook bisogna avere un limite di età per poter avere accesso, in questo caso Whatsapp è aperta a tutti, credo anche tutto, a figlia e comunicate su Whatsapp. Sì, sì, sì. Bisogna fare attenzione anche lì. Ma soprattutto bisogna, secondo me, se sei d'accordo, Bepi, controllare comunque i ragazzi oggigiorno, molte volte li si lascia allo sbaraglio, questo non va. Purtroppo è un fenomeno dilagante, ci sono stati molti casi in tutta Italia, per la verità, di video di aggressioni tra minorenni, di bullismo che sono stati diffusi appunto, sono diventati rapidamente virali, questo è una cosa su cui si interrogano molto anche gli psicologi, si interrogano le persone che studiano questo tipo di fenomeno e le forze dell'ordine che hanno delle squadre specializzate proprio per cercare di contrastare fenomeni che sono molto molto pericolosi. Insomma, un fenomeno anche dilagante è la poca sicurezza in cui stiamo vivendo. Allo Zoo Safari, che io insomma come tutti conosciamo benissimo, c'è stata una rapina. Questo vuol dire che qualcosa sta cambiando e che non è che c'è tanta sicurezza come si pensava. Certo, anche perché si tratta di luoghi particolarmente affollati, questa è una rapina che fu compiuta tra la gente, lo Zoo Safari è un posto frequentato da migliaia di persone, soprattutto da tutta Italia, insomma, vengono a visitarlo, quindi colpisce particolarmente. È la dimostrazione che non esistono più luoghi sicuri e questo vuol dire anche che bisogna dare una risposta importante a livello di prevenzione. Quindi quando si sente per esempio sulla crisi energetica il fatto che si ipotizza addirittura lo spegnimento delle luci nelle città, ecco questa è una cosa su cui riflettere molto attentamente, perché è una cosa molto pericolosa a mio avviso, quella di eliminare le luci. Proprio l'illuminazione, gli impianti di videosorveglianza sono qualcosa che può contribuire a creare un clima di sicurezza, anche se spesso non è un deterrente. No, non è un deterrente, però diciamo spegnere le luci in una città vuol dire che puoi dare là alla criminalità anche di farti una rapina e tante buglie non si vede niente. Infatti è bene che l'amministrazione pensino a risparmiare su qualcos'altro e non sulle luci della città, che devono rimanere assolutamente illuminate. Si potrebbe anche per rispetto, lancio diciamo una provocazione, non fare niente a Bari per Natale e diciamo pensando ai bambini dell'Ucraina, tutta la gente che sta soffrendo e cercare insomma quei soldi di aiutare le persone che non riescono a mangiare, per questo tramite il welfare e soprattutto tenere le luci accese nelle città. Che pensi? È più idoneo non fare Natale o farlo? Noi proprio oggi abbiamo pubblicato un servizio sul piano, che anche se non è stato ancora ultimato nei dettagli, che riguarda il Natale. Quindi di sicuro non ci saranno le illuminazioni negli scorsi anni, anche perché ci sono alcune aziende importanti che hanno già annunciato che non faranno le illuminazioni. Il Natale comunque ci sarà, sicuramente sarà notare in tono minore per certi aspetti, quindi meno illuminate, il clima ovviamente, purtroppo il clima che stiamo vivendo a livello nazionale e internazionale anche è un clima molto 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 delicato e quindi è ovvio che non sarà notare come quello degli altri anni. Tu devi chiedere qualcosa a Bepi? Posso avere una curiosità, un parere? Io ho il polso più ferrato sulle ultime pagine dei giornali, quindi spettacolo, cultura, però mi incuriosiva la questione dell'audio Berlusconi che era stato diffuso, se aveva una posizione a riguardo. Come al solito, quando succedono queste cose, quello che noto io è che ci cerca almeno di concentrarsi su come è uscito l'audio e non invece sul contenuto dell'audio. In questo caso, appunto, è stato uno scoop dell'agenzia giornalistica La Press che ha avuto quest'audio, Berlusconi era con i suoi deputati, quindi, insomma, voglio dire, è ovvio che l'agenzia, nel momento in cui ha ricevuto quest'audio, ha il diritto e dovere di pubblicarlo. È importante concentrarsi su quello che ha detto, perché poi, voglio dire, i media hanno non soltanto il diritto, ma anche il dovere di rendere note certe cose, anche perché poi gli italiani devono farsi una loro idea, ecco, di quello che è accaduto. Quindi, insomma, sono situazioni che, voglio dire, succedono, succedono anche spesso, poi a quel punto i media devono comunque gestire la cosa e, in primo luogo, dare la notizia, perché quello è lo scopo per cui ci sono i media. È così, è così, assolutamente. Io ringrazio il collega, il vice caporedattore del Corriere del Mezzogiorno, Bepi Castellaneta, per essere stato qui con noi, insomma, e per essere sempre pronto a queste interviste, perché è sempre importante avere una visione da un collega autorevole che, insomma, sa quello che sta accadendo e scrive soprattutto. Grazie, grazie. Seconda parte. Seconda parte, che facciamo? Qualche minuto di pubblicità e poi parleremo della moda con Gian Paolo Garasso, proprietario e amministratore unico di Quadra Group. A fra pochissimo. Prepararsi ogni giorno per un nuovo viaggio. Mettere ogni cosa al proprio posto, in modo che tutto abbia un ordine. Farsi carico di un impegno che va oltre l'ordinario e seguire la strada. Conserva, trasporti e logistica, in mani sicure. Siti Moda è presente a Bari Diamelo, Bari Max, Bari Santa Caterina, Matera, Modugno, Molfetta, Prossima Apertura e Potenza. Prossima Apertura Siti Moda, lo store per tutta la famiglia.